e bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a prendere il regalo di Pat visto che è natale prima di cominciare però gli diamo una carotina guarda è già pronto e adesso andiamo a prendergli il regalo andiamo ma noi glielo dobbiamo dire perché no fatto tappati le orecchie tappiamogli le orecchie a Pat intanto qua c'è la sua vicina Damora che sta rifusando visto che è natale e Pat è importante dobbiamo fargli un regalo però non so cosa regalargli adesso andremo a vedere in un negozio cosa prenderli e poi gli faremo una sorpresa andiamo guarda Guglielmo che sta cacciando un topino forse ragazzi siamo arrivati qua alle NH adesso andremo a cercare un gioco o un pupazzetto per Pat e magari troviamo anche qualcosa per poco andiamo oh quante robe guarda se paghiamo una scatola guarda quante cose ci sono ma c'è un sacco di... ah guarda qua i... eeeh quanta roba oh guarda qua guarda qua guarda qua allora visto che vogliamo adobare anche il box prendiamo pure di questi blu perché Pat è un maschio e uno scintato quale? che li intercidiamo insieme ok? si? va bene va bene così per le palline vuoi mettere le palline? tu li posi? beh potremmo mettere le palline prendiamo anche le palline che sono blu e si abbinano si dai quelle lì dai queste qua sono belle prendiamo queste le palline eh? prendiamo quelle palline prendiamo anche le palline che sono blu e si abbinano e mettiamo qua dobbiamo cercare il regalo abbiamo preso le decorazioni per il box per adesso e adesso dobbiamo cercare dei giochi un peluche allora abbiamo deciso di come regalo prendiamo questo per Pat che secondo me è molto carino un ursetto grigio carino come patta grigio ci sta andiamo a pagare adesso dobbiamo solamente prendere il sacchetto e poi possiamo andare abbiamo preso pure la scatola e siamo pronti per andare a fare il regalo ok andiamo ok ragazzi abbiamo comprato i festoni e le palline per attaccarle sul box di patto e poi il regalo andiamo allora in maneggio ok ragazzi adesso andiamo a dobbare il box allora siamo in compagnia della Lisa e adesso trasferiamo fatte in un altro box perché così li dobbiamo addubbare il box e almeno non si spaventa magari se ci vede con i festoni e tutto e poi dopo li facciamo vedere la sorpresa ok allora lo trasferiamo momentaneamente così liberiamo il box gli addobbiamo il box e dopo torna allora andiamo vai e c'è una cappetta che fa becchia ma tutta felicitosa tutta felicitosa ok allora quindi lo trasferiamo in un attimo lo mettiamo qua? il suo vecchio vecchio box questo qua è il suo primo box mi sarà spaventato dici senti i raudori diversi qui era prima all'inizio appena arrivato era qua guarda come si guarda intorno quindi questo lo dobbiamo fare candine queste servono dopo prima dobbiamo come ci chiamano queste cose? ghirlande ghirlande stacchiamo qui vai i miei ribida di robe ne abbiamo presi i blu e i argentati perchè è damaschio e notta è becchia il ruccio e non era troppo pronto bene ma che carini top vai allora se sbrilluccicano guarda rio è un po' è un po' sfavamentato fa un sacco di riflesso ma che roba cos'è quella cosa? no 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 lo si pida va bene addobbiamo questo è un po' di corno vai allora cominciamo con questo blu penso che lo metteremo tipo così adesso ci arriviamo tipo così no? sì carino no? diciamo un po' natalizio un po' natalizio e mettiamo una pallina però magari cancetto eh sì così giusto così di là c'è qualcuno che vede interessante? fai metti la pallina tipo cancetto come la metto? ah ok come come riflettono queste palline queste birlande qua eh ma scusa eh ma qui è natale io non ho capito è certo che è natale oggi è il giorno di natale bello 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 ah io farei tutto qua sopra cosa dici? ma io non c'erro in po' come mai? abbiamo un problema tecnico eh sì ma noi abbiamo la soluzione soffia perché mi sa che vedi tutti questi riflessi qua perché soffia secondo te? chi soffia? lui non gli piace secondo te metti l'ultima pallina di questo tema sono un po' di cilindro eh no vabbè così ah no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè va bene vabbè allora mettiamo le palline dentro dentro qua sì qua sì ok guarda come sono incuriositi i cavalli poi eh guarda 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 come sono interessati poi va che roba è salato è salato solo perché è chiuso se no sarebbe uscito anche lui eh cioè state facendo uscire tutti i cavalli guarda che no e ma guarda anche di là sono tutti fuori i curiositi sono tutti i curiositi guarda che poi dobbiamo fare anche il pacco il pacco ragazzi se volete prendere uno scapello vi lascio il link qua sotto bene 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 è una tinta bella bella poi il pacco regalo Il pacco regalo? Il pacco regalo Che cos'è? Lo prepariamo già con lo spago? Va bene Abbiamo lo spago Lasciamo aprirlo Lasciamo vedere il ciocchetto Andiamo? Ciocchetto Ma praticamente è vero che i cavalli Quando si hanno un pupazzetto appeso Si divertono, si intrattengono? Sì Lo sapevi te Lisa? No E anche l'amico Franklin Franklin sarà il nuovo amico di Pat Come si chiama? Non lo so Va bene, allora Teddy Come lo chiamiamo? Teddy L'amico Teddy Ok, come si chiama? Teddy Amico Teddy 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 per gli amici amico Teddy Amico Teddy Quindi abbiamo lo spago Cosa serve lo spago? Per attaccare il pupazzino Che si chiama? Teddy per gli amici amico Teddy Facciamo tipo il taglio del singolo Vai Hai presente da quando aprono le cose nuove Sono tutte le persone che applaudono Amico sgabello Amico sgabello? È una faccia un po' triste amico Teddy Chissà come verrà sbausciato per me No, secondo me Gli tira le botte state La mattina Boom Ok, bene Allora, lo spago a cosa servirà? Per attaccarlo che poi troveremo un posto della cacchiera che ti senti Va bene, chiudiamo A questo punto mettiamolo sullo sgabello e via tutto È qua il regalo? Andiamo a prendere qua Andiamo Ecco Buongiorno Si era già ambientato Ma io Ho cambiato casa Stavo così bene Stavo bene Era provvisorio Perché là C'è qualcosa che aspetta per Pat Una sorpresa Andiamo Vediamo Ecco Ecco Vediamo Vediamo Un curiosito Buon Un curiosito Secondo me Sente l'odore Guarda Guarda che lo apre Guarda Carota E E Contenti Buono Buono Tenti No Ma che si matta Canciamo a vedere Vediamo Wow Contanti Contento È contento È contento Adesso proviamo a mettere un box Adesso dobbiamo mettere un box Mettiamo Teddy Mettiamo Teddy Come qua il Teddy Dobbiamo mettere Teddy Lo mettiamo qua davanti Eh sì eh Il mezzo Il mezzo Il mezzo Il mezzo Non esce Non esce Non a caso Ma è stracomodo Questo sgabello qua Per andare su È curioso È curioso È curioso Amico Teddy Eccolo qua Guarda Super Vediamo se Se ne piace a Teddy L'ho visto È dato il colpetto Va 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 La sorpresa Fatta e piaciuta Guardate qua È vicino Molto bello E niente Se vi è piaciuto questo video Mettete un pollice In su Ed iscrivetevi al canale Guardate altri video Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione!